A Natale si possono fare tanti regali, alcuni banali, alcuni particolari. Quello che stiamo per suggerirvi è particolare perché è un regalo materiale, stiamo per parlare di un libro, ma è anche un regalo immateriale perché è un libro che parla di parole e che vuole aiutare coloro che lo leggeranno a riscoprire il senso delle parole perché talvolta, come scrive l'autore Monsignor Nunzio Galantino nella sua introduzione, le parole hanno perso il senso più profondo perché siamo abituati a banalizzarle. E allora questo libro analizza 101 parole e cerca di ridare a queste parole un vero autentico significato o, se vogliamo usare un'espressione di Papa Francesco e della sua prefazione a questo libro, vuole dare alle parole quella fecondità che esse hanno. Il libro in questione è Vivere le parole. L'autore, l'abbiamo già detto, è Monsignor Annunzio Galantino e quindi vogliamo chiederle perché, come mai ha deciso di scrivere un libro per dare significato, per ridare significato e per dare fecondità alle parole. Mi hanno una cosa che, così, un'esperienza che io stesso ho fatto non sedendomi a tavolino e scrivendo 101 parole. Le ho vissuta un po' questa esperienza di collaborazione con il quotidiano Il Sole 24 Ore, l'ho vissuta proprio come un'esperienza mia, personale, alla ricerca di, possiamo dire, 101 ancoraggi. Ancoraggi per poter parlare, per poter riflettere, per poter anche orientarmi in certi momenti particolari, soprattutto in un momento in cui, come il nostro tempo, momento in cui vige un po' lo slogan, il frammento, la parola buttata lì, qualche volta le aggressioni anche verbali. Allora io penso che ciascuno di noi è chiamato di fronte a un tempo come il nostro a dare il suo contributo. Io ho pensato di fare in questa maniera, aiutare a recuperare il senso delle parole, qualche volta, dico la verità, mettendo in comune anche con il lettore, mie riflessioni, anche un po' di confessioni personali. Parlando della parola deserto, peraltro, fa riferimento ai social media che vengono accusati di essere quelli che hanno un po' svilito il senso delle parole. Oggi si comunica in 120 caratteri, alle volte non si riporta la parola per intero ma si accorcia. Anche quelli hanno contribuito a banalizzare? Ecco, soltanto che io starei attento a non demonizzare i social. Oggettivamente, veramente, sono e possono essere quello che tu adesso stai dicendo. Però è anche vero che i social possono essere uno strumento straordinario se abitato con consapevolezza. Ecco, questo libro penso possa anche aiutare ad abitare con consapevolezza i social in modo tale che non diventino il luogo della battaglia, non diventino il luogo dell'odio seriale, non diventino il luogo del tifo da stadio, ma diventino invece il luogo anche del confronto, dell'incontro, qualche volta anche dell'accoglienza. Ecco, una delle parole che vengono analizzate è proprio quella che forse oggi non è molto di moda in Italia ma anche in altri paesi esteri dove c'è più il senso della chiusura che cresce anziché quello dell'accoglienza. Scrivi che accogliere è più che ospitare. Che significa dunque accogliere? Perché è più che ospitare? Ma perché ospitare vuol dire dare uno spazio all'altro, normalmente uno spazio fisico. Accogliere invece vuol dire dare, intanto accorciare le distanze, accorciare le distanze non solo materiali, ma accorciare le distanze emotive, accorciare le distanze culturali. Soprattutto accogliere vuol dire aprirsi all'altro con la sicurezza che l'altro ha qualche cosa da dirmi e da darmi. Ecco allora che io posso, ripeto, ospitare, dare una bella stanza a una persona, gli chiudo la porta, domani mattina ci vediamo, ti offro la colazione. Invece accogliere vuol dire interessarmi a lui, cominciare a dire il perché si trova per strada, dove sta andando, quali sono i suoi desideri e che mi dice che esponendomi un po' le sue progettualità, condividendo con me le sue paure, ma anche i suoi entusiasmi, non rimette in moto una vita che molto spesso, anche da noi, è una vita un po' appiattita. Certo, chi demonizza l'accoglienza, chi addirittura specula sulla difficoltà che comporta l'accoglienza, questo è evidente, nessuno qui vuol fare l'anima bella, ma chi specula su questo evidentemente fa qualcosa che non va nella direzione giusta. Prima di tutto dal punto di vista umano e politico, poi, se è il caso, anche dal punto di vista cristiano. Quindi l'accoglienza è un'ospitalità che si apre al dialogo e all'amore, perché no? Sì, è il passo in più, diciamo, è la marcia in più, una marcia in più interiore che si innesca proprio perché io sono convinto che chi ha bussato alla porta della mia casa, della mia chiesa, delle strade in cui noi ci troviamo, chi ha bussato non è soltanto un povero, è uno anche che possiede, ha qualche cosa da darmi. Probabilmente non può darmi quello che io ho, i beni materiali, ma molto probabilmente la sofferenza che ha attraversato, la strada che ha fatto, probabilmente tutto questo hanno da dirmi, hanno da darmi tanto. C'è una frase, proprio nell'esporre la parola accoglienza, che fa riflettere. Ci dobbiamo aprire non soltanto all'altro, ma anche alla sua cultura, alle sue tradizioni, alla sua religione. Per noi che stiamo perdendo la nostra identità cristiana, potrebbe essere rischioso aprirci all'altro? Ma guardi, perde la propria identità chi non l'ha mai avuta o chi non ce l'ha in maniera seria. Se identità religiosa significa soltanto quattro pratiche di pietà con tutto il rispetto, delle parole pie messe l'una dietro l'altra, evidentemente questo tipo di identità è facile perderla, perché è una identità fondata su realtà esterne, non è un'identità che... perché l'identità religiosa è prima di tutto, io oserei dire, un po' una sorta di corpo a corpo col Vangelo, no? È una sorta di corpo a corpo con Cristo. E quando io ho accettato di interagire profondamente con Lui, di farmi condizionare nel senso bello e nobile della parola nelle mie scelte, non è che l'ultimo arrivato mi toglie questa camicia e me ne mette un'altra. In genere, quando si invoca la protezione della identità, facendola coincidere con l'allontanamento dall'altro, con il dire non voglio incontrare l'altro altrimenti mi guasta, vuol dire che io ho paura di essere una persona che non ha sistemi immunitari dentro di sé. Il sistema immunitario nell'esperienza religiosa, nel fatto anche culturale, questo sistema immunitario che è splendido, importante, sicuramente lo si costruisce con la riflessione, con la lettura, col confronto, con la vita interiore. Io ho l'impressione che temano il confronto con gli altri, coloro i quali una vita interiore seria non ce l'hanno. E questo possono essere preti, vescovi, frati, suore e laici. Tutti siamo purtroppo esposti a questa sorta di patina religiosa che a ogni soffio rischia di appannarsi o addirittura di squagliarsi. In un libro che si intitola Vivere le parole paradossalmente c'è una parola che ricorre più delle altre ed è silenzio. C'è uno degli argomenti trattati che si intitola proprio silenzio, seguito poi da una sorta di parola cugina che è deserto, ma poi di silenzio parla lei nella sua introduzione e parla anche Papa Francesco nella sua prefazione. Come mai è importante parlare del silenzio in un libro sulle parole? Ma per il motivo che, ecco, lo riaggancio questa mia risposta, no? A quello che dicevo poco fa. Io penso che soltanto, ho parlato di vita interiore, non ho paura di parlare di questo in questo momento e non soltanto per chi è uomo o donna di chiesa. Vita interiore significa saper, ecco qui, fare silenzio, perché soltanto da un silenzio autentico nascono, cioè soltanto il silenzio autentico che diventa grembo, di lì possono nascere parole autentiche. Attenti perché il silenzio è ambiguo nel senso etimologico della parola. Io posso anche vivere un silenzio stizzito. Ad esempio, quando io non condivido qualcosa, si vede subito dalla faccia e dal mio silenzio che non condivido quello che sto dicendo a te. Ci può essere un silenzio non solo stizzito, ma anche che pesa, che fa pesare. Quando io non solo faccio silenzio, ma non guardo nemmeno in faccia all'altro, il silenzio di cui si parla, questo silenzio grembo, è invece il silenzio all'interno del quale io misuro le mie capacità, misuro gli appelli che mi vengono dall'altro, cerco di far sintesi dentro di me e faccio venire fuori con l'aiuto del Padre Eterno per chi ci crede, ma anche con l'aiuto dell'equilibrio che comunque dentro di noi può essere sempre ricercato, può far venire fuori parole sensate. Nel contesto che stiamo vivendo, quello delle festività natalizie, mi ha colpito la parola festa e in particolare un nuovo concetto, forse diverso da quello comune, più spendereccio a cui siamo abituati, della parola festa. Lei scrive, non può esserci festa senza condivisione, accoglienza e comunione gioiosa. E poi a un certo punto esprime il concetto che accettando di fare festa, si è disposti a regalare ad altri, e in tanti modi, motivi che rendono lieti. Forse il regalo delle feste non deve essere tanto materiale quanto regalare un po' di se stessi nel proprio tempo. E' questo il concetto? Sì, ecco, però vorrei un po' che anche questo non venisse banalizzato, perché di questi tempi tutti quanti ci ricordiamo che la festa non è soltanto luminaria, non è soltanto panettoni, non è soltanto regali, ma è anche qualcosa di interiore. Poi dopodiché tutto si chiude in questa maniera. Io voglio ricordare che questo non è un concetto nuovo. D'altra parte, se qualcuno che ha, non dico la mia età perché è difficile, ma sono pochi i sopravvissuti della mia età, ma se uno ricorda un pochino il senso che la festa aveva, e per certi versi continua ad avere ancora in alcuni posti, la festa voleva dire questo proprio, opportunità di incontro, opportunità di condivisione. Basta pensare a quello che erano prima le nostre feste patronali e quello che sono ancora in alcuni paesi, dove io sono stato ultimamente anche al nord, a Trento, a Rovereto meglio ancora, la festa, una festa, si concludeva con una immensa tavolata nel centro proprio di Rovereto, alla quale tutti erano invitati, e con un fatto simbolico che dice proprio questo. Facciamo festa insieme, intanto pregando insieme, incontrandoci, divertendoci anche insieme, ma anche condividendo quel poco che abbiamo. La festa senza condivisione diventa un modo, o meglio la festa di chi non intende condividere, le cosiddette feste privé, quelle nelle quali si paga non so quale somma per entrare dentro, per chiudersi poi, per guardarsi in faccia a gente che semmai non hanno niente da dirsi, se non solo da mostrare qualcosa che hai in più degli altri. Queste feste hanno niente a che fare con la festa in genere, con la festa religiosa in particolare, perché la festa religiosa in particolare esiste come occasione di incontro, esiste come occasione di incontro per pregare, riflettere, condividere, divertirsi anche nel senso bello della parola, cioè il divertissement, gente che in genere lavora, in genere fatica ad andare avanti, ha bisogno di qualche momento per dover fare altro, senza dover strafare, senza che ci sia necessariamente la cosiddetta vacanza estrema, la festa esotica, qualcosa di al limite del sostenibile, questa non è festa, questo è soltanto un tentativo di ubriacarsi fuori posto. L'ultima parola con cui si conclude il libro è una parola ostracizzata dalla cultura, dal pensiero attuale, la morte. Eppure si può riscoprire, questo libro aiuta a riscoprire, il vero significato della morte. C'è una frase tratta dalla preghiera della liturgia dei defunti, la vita è mutata, non è tolta. È difficile capire questo concetto, perché oggi si allontana la morte dai pensieri quasi come se fosse invece tutto il contrario, la fine di tutto. Mi viene in mente adesso una espressione, o un modo anche di qualcosa che ha scritto anche qualche grande filosofo, dove addirittura parla dell'attuale contesto culturale come di un contesto nel quale la morte è ritenuta una pornografia, qualcosa evidentemente che non si può eliminare, perché prima o poi tutti quanti moriremo dal punto di vista fisico, finiremo, no? Però parla di pornografia della morte, nel senso che pur essendoci facciamo di tutto per nasconderla. Oggi per tanti motivi si muore poco addirittura in casa. Prima si nasceva in casa, poi non si nasce più in casa. Adesso si muore ancora in casa, ma molte volte non si muore più in casa. Si potrebbe, qualche volta addirittura viene un po' proposto come un desiderio strano, quello di dire, no, voglio morire in casa mia. Per cui, ecco, quello che oggi viene chiesto a noi è proprio quello di farci appartenere il tema della morte, la realtà della morte, farcelo appartenere nel senso in cui lo affermava e lo desiderava, lo scriveva il filosofo tedesco Martin Heidegger in una sua opera, Seins und Todes, essere per la morte, esistere per la morte. Lui diceva, attenti, esistere per la morte non vuol dire esistere con questo pensiero fatalistico del tanto dobbiamo morire, no? Ma dite invece, siccome dobbiamo morire, valorizziamo appieno questa nostra vita, facciamo tutto quello che è possibile fare per lasciare un segno. E il segno non lo si lascia scrivendolo, scrivendolo sulle lapidi o facendosi fare un monumento. Il segno lo si lascia quando si è consegnato ad altri qualcosa di sé, quando si è consegnato ad altri qualche intuizione, quando si è condiviso con gli altri anche qualche cammino fatto veramente per bene e anche quando si condividono relazioni attraverso le quali transitano anche difficoltà, sofferenze. Quando è così, allora veramente ha senso la preghiera del prefazio dei defunti, vita mutatur non tollitur, cioè per noi credenti, è un passaggio, è chiaro che è un passaggio con tutta la drammaticità della frantumazione e della lacerazione affettiva, perché lasciare una persona cara, non poter più guardarne gli occhi la persona cara, anche se mantenere un rapporto attraverso la preghiera non è semplice. Quindi stiamo attenti anche se da una parte c'è chi parla di pornografia della morte, c'è anche chi la banalizza la morte. Qualche volta anche nei nostri ambienti di chiesa la morte viene banalizzata, no? Ignorando e non rispettando la fatica di accettarla. Però accettarla con fatica, la morte, non vuol dire farle perdere anche tutta la ricchezza che questa può esprimere, nel senso che intanto ci permette di non cadere nella sindrome del Padre Eterno, quindi sapere che tutti quanti dobbiamo finire, ma proprio perché dobbiamo finire il tempo che abbiamo, dobbiamo valorizzarlo in pieno, per bene, per aiutare gli altri e per seguire il Padre Eterno. Invece la prima parola con cui inizia il libro è Dio, una parola forse difficile da spiegare. e sembra quasi che la via maestra per parlare di Dio è parlarne a uno che dice di non credere in Dio, che si proclama Atio, si rivolge a Dario Fo. Sembra quasi non credere alla possibilità che in fondo, in fondo, anche chi dice Dio non c'è, non esiste, lo pensi davvero? Ma sì, è stata una bella esperienza quella di confronto con Dario Fo. Lui aveva scritto da poco un libro, poi ci siamo anche sentiti, so che lui ha apprezzato molto proprio questa parola, questa parola un po' più lunga, perché non vorrei così intimorire i lettori. le parole sono massimo una pagina, una paginetta in mezza, per cui anche di facile approccio quello che è scritto nel libro. La parola Dio è un pochino più lunga perché il dialogo con Lui è stato davvero un dialogo interessante, dove non abbiamo parlato della parola Dio, giustamente dicevi, è una parola difficile. Sì, come parola è difficile, come esperienza non lo è. Ma sai perché? Perché l'esperienza di Dio la si fa non perché scegliamo noi di farla, ma perché è Lui che ce la propone. A noi sta accoglierla ed è ovvio che è un'esperienza, quella di Dio, che è tanto diversa quante diverse sono le persone. Io non credo che ciascuno di noi possa dettare o dire all'altro come ci si accosta a Dio. Io ho un po' di dubbi sui grandi maestri di fede che trasformano un metodo nell'unico metodo per poter parlare con Dio e a Dio. Certo, è importante se si è fatto un'esperienza o si fa un'esperienza di Dio farsi compagni di strada degli altri, ma mai facendosi guide, ma facendosi invece compagni di strada. È molto più importante, molto più importante. Augurandoci che Vivere le parole possa aggiungere altre parole alle 101 già prese in esame. Sono già pronte. Ah, sono già pronte? Sì, perché da quando ho consegnato il manoscritto all'editrice PM di questo Vivere le parole, che poi porta come sottotitolo per un vocabolario dell'esistenza, ecco quello che abbiamo detto all'inizio, una sorta di ancoraggio alla vita, potersi ancorare in questo tempo particolare per riflettere, per orientarsi. È vero che ho consegnato il manoscritto, ma da allora ho continuato ancora a scrivere. Scrivo ancora domenica dopo domenica sul sole 24 ore, quindi ci sono altre parole interessanti, anche la parola politica, altre parole, insomma. E in questo contesto, non so se l'ha già preparata, se non l'ha preparata improvvisiamo. Vogliamo concludere spiegando la parola Natale? Ma non l'ho scritta, perché il Natale non si vive soprattutto. Intanto mi piacerebbe che qualcuno tornassi a capire che il Natale esiste perché c'è stata una persona che è nata, non perché ci sono le luminarie, no? Perché è Gesù che è nato, è Gesù che è venuto, è Gesù che è venuto per incontrarci, è venuto per dirci che vale la pena vivere anche in un mondo fatto di realtà molto molto limitate. però se si perde il senso della incarnazione, cioè del farsi fragilità, se si perde questo, evidentemente poi il Natale diventa altro, diventa consumismo, diventa luminarie, diventa clima ovattato, diventa realtà nella quale, semmai mettersi a fare baruffa, presepe sì, presepe no, che secondo me sono frutto qui, per esempio si invoca a proposito di identità, si invoca il tema della identità per dover fare o non fare i presepi, secondo me soltanto sono beghe di gente che ha poche idee. Questi maestri, queste maestre, o questi dirigenti scolazzi, per fortuna poi sono pochissimi, davvero sono pochissimi, per cui a me dispiace pure che diano tanta importanza a questa gente che a volte si inventa di tutto, pur di far venire fuori invece la loro vena stupidamente anticlericale, la loro vena così superficialmente interclassista o interculturalista, perché la vera cultura è quella nella quale due culture diverse si incontrano. Chi viene, il musulmano, chi viene in Italia, il buddista che viene in Italia, con tutto il rispetto per quello che loro sono, è chiamato anche per la sua ricchezza a capire che c'è dell'altro. E con noi come cristiani, come cattolici, cosa in questo periodo possiamo offrire? Non dobbiamo offrire necessariamente panettoni o anche il mio libro, si può anche fare questo, no? Ma il problema è un altro, dobbiamo offrire il senso autentico dell'incarnazione, cioè dire agli altri, guardate, in mezzo alle disgrazie che passiamo, c'è uno che ci è venuto a dire, guarda, la tua storia non è compromessa per sempre, guarda, c'è una strada che tu puoi percorrere, te la indico io, mi faccio io compagno di strada tuo. Questa è l'incarnazione. Noi preti, vescovi o altri, dovremmo imparare a parlare di questo a Natale, sì, preoccuparci del presepe, io sono uno di quelli che ne raccoglie tantissimi, mi piacciono da morire i presepi, no? Figurarsi. Ma il problema però è saper andare oltre questo, saper partire da questo per dire altri. Il presepe non può diventare elemento discriminante in un senso o nell'altro, peggio quando poi il presepe viene strumentalizzato come argomento politico di identità. Questo non serve a niente, non fa il bene dell'esperienza religiosa. Il bene dell'esperienza religiosa lo si fa quando, capendo che l'incarnazione è accoglienza che Dio fa nei nostri confronti, noi ci mettiamo a fare esperienza di accoglienza anche degli altri, di ospitalità e di accoglienza. Perché non dimentichiamo che quel Natale, prima di quel Natale, c'è stata una storiella drammatica di Giuseppe e Maria col bambino Gesù che andavano a bussare, c'è posto per noi, no, è tutto occupato, è chiuso questo posto per voi, è chiuso. Allora attenzione che il Natale è il contrario della chiusura di case, di porti o di altro. È il contrario della chiusura. Avendo riscoperto il vero senso del Natale, auguriamo a lei e a tutti i nostri telespettatori davvero un buon Natale. Auguri veramente a tutti quanti voi. Auguri. Grazie.